Ciao ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus Ok, abbiamo iniziato il nostro primo campionato Come vi faccio vedere, anni 60 con la nostra Mini Cooper Dobbiamo praticamente andare avanti perché abbiamo fatto soltanto una sola tappa Quindi andiamo Perfetto, in 3, 2, 1, vai 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 vai, ok Partiti Cerchiamo di non fare, uh avete visto il drone, porca miseria Magnus non ti distrarre Iniziamo a non distrarci perché sennò sbagliamo tutto Ok, non mi piacciono questi tornantoni, allora abbiamo visto già, porca miseria come cavolo Come cavolo si scivola, ok abbiamo preso subito un bel cartellone, dobbiamo stare attenti qua Attenzione, vai 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 vai, ok perfetto Avete visto come è salita di giri Mi scivola sempre tutto l'improvvisibile al massimo che panorama che abbiamo qua Attenzione, attenzione Cerchiamo di, uh il filo della corrente Cerchiamo di non beccare niente Che qua diventa veramente difficile Attenzione, attenzione, troppo stretta sta curva Mazza che schiavo, eh Attenzione Uh, vai vai vai, ok vai Dai, il 7 come primo intermedio potrebbe non essere male Potrebbe Poi magari Oh, questo qua ci sta un tornantone Vai vai, vai vai vai, mamma mia l'abbiamo fatto proprio a zero chilometri orari proprio, eh Non è che comunque la mini, non è che... Ok, questo è un altro, porca, qua ho sbagliato Qua ho sbagliato alla grande Qua ho sbagliato alla grande Abbiamo perso tantissimo qua, porca miseria Porca miseria, attenzione E che altro tornante Ok, vai 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 vai, non ti preoccupare Vai vai, accelera sempre tu, dammi tutto No, potrebbero fare un pochettino più in larga questa stradina, porca miseria Aspetta Vai 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 Ok, questo dovrebbe essere già molto meglio, eh Qua siamo riusciti a tagliarla meglio Ci stiamo arrampicando sugli irpicolli Perché avevo fatto almeno altri 4-5 tornantoni, eh Quindi, ecco di qua Altro tornante Cerchiamo di non seccare Ok, vai, vai, cavolo Ah, porca miseria, ho sbagliato, ho sbagliato Porca miseria Stannanti tornanti Questa mezza sia un altro tornante Ammazza quanta gente che c'è Tutti a guardare Magnus senza freni, eh Tutti a guardare Vai vai vai, ok vai vai Vediamo di tagliare, ok Vai 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 vai, ok vai Ok, perfetto Qua già siamo andati un pochettino meglio, eh Vediamo se riusciamo a fare Ok, altra curvetta Attenzione Oh, quanta gente qui ci sta, eh Attenzione Oh, è partita Ciavolo Attenzione, cazzo Cerchiamo di non seccare Anche perché qua Andiamo praticamente giù, eh Ocio, ocio, ocio È partita Porca miseria È troppo stretto Attenzione Ma ho sentito un glaxo Non ho sentito Ma che c'è Ma le macchine che passano Attenzione Si vede da lontano Qua altra c'è La grafica è spettacolare comunque Grafica spettacolare Attenzione Non ci distraiamo Non ci distraiamo Attenzione Vai 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 Questa è salita Vai 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 Metti il turbo Metti il turbo Orca miseria, ragazzi La macchina non c'è 26 Più 26 Vabbè, dai Rispetto a prima Dovremmo essere già molto meglio, eh Se non avessi strecchiato Quei tornantoni Schifosi Ma c'è da fare la macchina È salita, eh Ecco A proposito di tornanti Aspetta Vai 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 Ok vai 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 Ok, dai Un pochettino meglio Però Obiettivamente la macchina Non è che vada tantissimo, eh Oh, attenzione Cazzo Porca miseria All'improvviso parte È molto più sensibile, eh Di URC, eh Devo essere proprio sincero Ok, qua è discesa Discesissima Cavolo Porca miseria Molto, molto Cazzo Ok, attenzione Attenzione Ok, vai vai Qua ho sbagliato alla grande Ho sbagliato alla grande Eh, non fa niente Pure il penalty Vaffanculo Mannaccia Abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato Purtroppo In discesa Cazzo, cazzo Ok No Porca miseria Porca miseria Ah, che peccato 13 secondi Sprecati proprio, eh Sprecati Ho sbagliato proprio L'ultima curva Ah, che peccato Vediamo come siamo andati Sempre quinti Ma che c'abbiamo L'abbonamento Col quinto posto Vabbè, dai Mozzo della ruota Danneggiato Ok Però tra gli italiani Siamo quelli messi meglio Perché De Luca e Martinelli Stanno un po' indietro Vediamo con la Mini Eh, però La Mini Cooper Però dovrebbe essere buona Come macchina Perché vedo che stanno avanzando Ok, dai Proseguiamo Ah, ok Quindi abbiamo bisogno Di riparazioni Il tuo veicolo Bisogna di riparazioni Vuoi procedere? Eh, sì A questo punto, sì Perché forse mi è sfuggita questa cosa Qui puoi indicarci Di riparare il tuo veicolo Se non sei sicuro Puoi vedere I nostri consigli In base al montare dei danni Alla ripercussione Sulle altre parti E alle condizioni Delle tue tappe successive Ah Se superiamo i tempi massimi Viene aggiunta una penalità Vabbè, ok Questo è sempre lo stesso Il costo di riparazioni Sarà dedotto Al termine dell'evento Aia Ok Che cosa abbiamo danneggiato di più? Eh, diciamo che la macchina Ma è che sta poi tanto male Forse sulle ruote 89% Vabbè, dai Io sinceramente Andrei avanti così E Vi dà un po' lui Che cosa ci consiglia Ci consiglia di migliorare Un po' Il radiatore Che sta al 93% Il cambio Le sospensioni Vabbè, dai Accettiamo i suoi consigli E vediamo che cosa Come va Naturalmente Ok 28 minuti Ok, dai Quindi dovremmo andare Tranquillamente bene No? Cerchiamo Vai, 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 vai Vai con la partenza Ok, vai Ammazza che Abbiamo lasciato Paramente il motore A terra Frizione e motore Ok, dai Cerchiamo di controllarla Bene E di non seccare Soprattutto per ciò Che riguarda Gli arrivi Ok Qua è veloce Veloce Attenzione Ok Contro sterzo Vai, vai Uscita Stiamo andando bene Vai, ok Vai Perfetto Questo è veloce Questo è 6 Attenzione che c'è partita La frizione Praticamente Attenzione Allora Discesa Porca miseria Oh, attenzione In discesa La macchina diventa Veramente molto difficile Da controllare Vai Ok Questo dovrebbe essere Un altro salto Oh, che roccia Porca miseria Vai, vai Ok, vai Ho cercato di tirare Il freno a mano È andato bene È andato bene Ok Questa è lenta Questa è molto lenta Vai, ok Siamo riusciti A controllarla bene Vai, ok Perfetto Anche qua Attenzione Cerchiamo di Il problema è che A volte Quando parte È molto difficile Da recuperarla Quando parte Ok Vai, vai Ok Primo intermedio Siamo a 10 Eh, non è tanto male Se riuscissimo A tenerlo sempre Questo distacco Però a volte Diventa difficile Attenzione qua Attenzione qua Uh Ok Questa pure è lenta Attenzione Vai, vai Ok, vai Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Male ma ce l'ho fatta Ok Non ci dobbiamo demoralizzare Attenzione cazzo Porca miseria Eh Ah, vai, 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 vai Ci siamo dei punti Che sono veramente Complicati Eh, queste tre Eh Vai Il problema è sempre Staccavo Uh Attenzione Staccavo di discesa Qua diventa Qua diventa Stretto E buio Si comincia a fare Più difficile Il tracciato Eh Attenzione Oh Ombre Salto Ok Questo è quattro Quindi già siamo Un pochettino Meglio Attenzione Vai, vai, vai Ok Vai Perfetto Un po' di freno A mano E lo abbiamo Recuperato 21 Mannaccia Porca la miseria Vai, vai, vai Ma questo è strettissimo Per esempio Ho preso un po' il bordo Ho preso un po' il cordolo Anche se non ci sta Attenzione Eh Anche qua l'ho preso Vado di cordolo Varicamente Ci mangiamo Attenzione Attenzione Troppo sotto Magnus Troppo Magnus Troppo sotto Attenzione Vai, vai, vai Ok, vai Uh Tutto in controsterzo Porca miseria Cinque Cinque con dosso Attenzione Attenzione Ah Ok Questo è quattro Vai, vai Uh È partita Porca miseria Quando parte così Mi viene latte alle ginocchia Praticamente Attenzione Questo è due Questo è due Vai, vai, vai Ok, vai Siamo usciti bene Alto il dosso Ok Perfetto Questo dovrebbe essere veloce E l'abbiamo fatta Attenzione Che qua se cariamo Ci spezziamo Praticamente L'impossibile Anche questo è veloce Cazzo 33 Riusciamo a mantenere sotto il minuto Porca miseria Porca di quella miseria È troppo stretta Ok, dai Sono comunque riuscito a tenerla Non abbiamo neanche preso una botta Attenzione Non le dire queste cose Magnus Non le dire queste cose Che poi dopo ti lamenti Se te la chiami addosso Che cavolo ci sta La potevano fare Un pochettino più grande Questa strada Mamma mia, ragazzi Attenzione Salto mortale Triplo Carpiato Vai, vai, vai Ok, dai Vediamo se riusciamo A tenerla Ha un po' di sole negli occhi Bene Fantastico Aumentiamo la luce negli occhi Vai Ok Attenzione Qua questo è veloce Però Io non mi fido Ecco qua Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta L'ho presa L'ho presa Però quest'ultimo tratto Guardando così Non siamo andati Tanto Cazzo Però perché non ha accelerato Non siamo andati Tanto male No Aspetta Può essere che Vai Questo è quattro Vai, vai, vai Siamo quasi alla fine Siamo quasi alla fine Vai, vai Tutto a discesa Metti tutto a manetta Ok Fine tappa Come è andata? Come è andata? Ecco qua Avete visto? Quarto posto Stiamo leggerissimamente Migliorando Dico leggerissimamente Perché Ci fa capire Che comunque Lima è forte Vai, vai Ok drone Ok Ok vai Al super limite Praticamente Cerchiamo di andare bene E di non commettere Errori Che qua si pagano Gli errori Su questo gioco Si pagano Gli errori Nel vero senso Della parola Ci rendono tutti i crediti Praticamente Attenzione Dobbiamo cercare Di Tagliare bene Di nostre chiare Attenzione Ok Vai, vai, vai In controsterzo Siamo andati bene Ok Altro controsterzo Uh Attenzione Che qua ci parte Di poi Sì vabbè Quando è così Diventa proprio complicato Cazzo Cazzo Vai, vai, vai Vai, vai Undici secondi di penalty Porca di quella miseria Praticamente Non sono proprio Più riuscito a fermarla Eh Questa è salita Dovremmo andare Un pochettino meglio Ok Questo È un bel tornante Vai, vai, vai Adesso è bravo Più stretto Era a 90 gradi Praticamente Ok Questa è discesa Di nuovo Again Porca miseria Ok Vai Vai Vai, vai, vai Ok Non ti preoccupare Vai che buona Vai che buona Cazzo 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 Gira, gira, gira Ok vai Non ce l'ha dato neanche il penalty Non ce l'ha dato il penalty Abbiamo perso soltanto 100 secondi Praticamente Ah Questo è un brutto tracciato Ok Vai, vai Ok Vai Attenzione Attenzione Porca miseria Ok Ok dai Ce la possiamo fare anche da quest'altra parte Cerchiamo di non stecchiare Vai, vai, vai Ok, vai Questa è lenta Ma Dovremmo andare bene però Vai, vai Anche questo è veloce Vai, ok Tu cambia Tu cambia Cambia E vai alla grande Attenzione Attenzione Per quest'altro pezzo di strada Altro dosso Porca misera È veloce Condosso Porca misera Porca Porca Oh L'ho recuperata L'ho recuperata Ragazzi Mi ero visto Praticamente Già nel muro Veramente nel burrone Perché non ci stanno muri 29 Vabbè, dai 29 Non è che sia proprio il numero nostro Vabbè, ok, dai Lasciamo perdere queste fasi offensive Cazzo Porca miseria Vai, vai, vai Ok Non ci ho capito niente Ok Ok, macchina a destra e a sinistra Ok, vai Taglia, 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 taglia Dai che buona Dai che buona Cerchiamo di non perdere il ritmo Se perdiamo il ritmo Cadiamo giù Precipitiamo e moriamo Vai, vai Questa è buona anche lì qua Altra curva a destra Perfetto Ok Questo cavolo di sole negli occhi Ci sta praticamente perforando Tibia e penore Vai, vai Ho tirato il freno a mano Ma non c'è partita C'è soltanto partita la frizione Again Altro freno a mano, eh Mamma mia Che cosa abbiamo consumato La sento da qua La puzza della frizione La sento Vai, vai Attenzione Oh, incominciamo con le stradine Incominciamo con le stradine Tuzza Vai, vai, vai Altro intermedio Come siamo messi 44 Gatti Infila per 6 Vai, vai Eh, ma quando è così Diventa complicato, eh Vai, vai Dobbiamo soltanto Cercare di migliorare Ok Attenzione Dove sta sta tornante lì? Vai, vai Ok Avete visto? Siamo riusciti a tirare il freno a mano Questa volta Ho avuto il coraggio Di arrivare fino in fondo E tirare il freno a mano In questo gioco Bisogna avere Bisogna avere coraggio E anche una bella botta di culo Ogni tanto, eh Che non fa mai male Attenzione Ok, vai Ok Questo è andato già un pochettino meglio, eh Quindi stiamo tenendo un po' più di confidenza Con i tornanti Certo Non siamo ancora dei talenti Però Vai Attenzione Mamma mia Che è successo? Ok Vai, vai Questa è tutta salita Tutta salita Dove puoi sfruttare Tutto il lurido Motoretto Attenzione Che qua ci sta un altro tornante Attenzione Vai, vai Ok Vai, vai Così, vai Coraggio, coraggio Forza, forza Ok Traguardo tagliato Vediamo come siamo andati Sempre quinti Ragazzi Vabbè, ok Dai, speravo peggio Sinceramente Però Non è male Quindi abbiamo Completato Vediamo un pochettino Ricompensa Totale 25.400 Costi di reparazione E bonus Ricompensa Quindi non è andato molto male Perché abbiamo Anche guadagnato Un pochettino di crediti Cosa abbiamo qua Avviso, capo e guidatore Aggiornamento del team Avviso, aggiornamento Aggiornamento installato Ok, quindi possiamo andare avanti Questa è la classifica Del campionato Anni 60 Quindi abbiamo 10 punti Rispetto a 35 Vabbè, ok Dai, non è male Possiamo andare avanti E andiamo All'evento successivo Oppure possiamo salvare Ed uscire E andare avanti Vabbè, comunque ragazzi Io vi lascio Al prossimo video Che spero di caricare Presto Se vi piace Questo tipo di carriera Che stiamo andando Che stiamo avanzando E soprattutto se vi piace La mia macchina Chiede sempre un pollice Un su Spero come sempre Questo video vi sia piaciuto Non vi ricordo sempre Di commentare Che resta di mettere mi piace Noi ci vediamo Nel prossimo video E bye bye Noi ci vediamo